t se io qui arrivo e tu mi spingi? Nicolo? Vai Giussino? Heheheheh Heheheheh Scoggio che manano a schiena Tutto bene, no? Ma che manano a schiena? Che manano a schiena? Che manano? Che manano? Insieme? Che manano? Che manano? Che manano? Che manano? Che manano? 4 farai si si 4 4 orco di esbozza ragazzi spettacolo ragazzi si mette tanda andando tanda andando andando tanto tanda andando ragazzi prima che chiamano tipo la polizia meglio andare secondo me ho preso una bocca della schiena e adesso si stanno ruotando no poi finisce per terra ragazzi tanda andando fai